Due nuovi appuntamenti con la rassegna culturale State, Muse e Stelle di Lucera. Si parte il 28 agosto con la tradizionale conferenza a cura della delegazione FAI di Foggia con gli interventi dei professori Fazio e Russo, cui quest'anno porteranno alla scoperta delle città invisibili di Capitanate in una suggestiva comparazione con le città invisibili di Italo Calvino. Il 30 agosto invece sarà la volta dell'orchestra Ico Suoni del Sud con lo spettacolo dedicato alla meravigliosa musica di Lucio Battisti. Pensiere e parole, Mogol, racconta Battisti. Racconta dell'amicizia vera tra due esseri umani molto diversi tra loro ma uniti da qualcosa di invisibile e indissolubile allo stesso tempo, Mogol e Battisti. Lo spettacolo è un tripudio di emozioni, colori, racconti e suggestioni, il tutto impreziosito dai contributi video e da atmosfere di luci, alle volte a tinte fosche e alle volte cangianti, così come era la vita di Lucio. Insieme all'attore e cantante Cristian Levantaci si esibisce l'essembolo orchestrale Suoni del Sud, otto elementi tra ritmi che ecco a tetto d'archi i quali danno vita alle canzoni di Battisti arrangiate da maestro Mario Longo. Iniziativa cofinanziata nell'ambito dell'accordo di collaborazione 2023 sottoscritto tra Teatro Pubblico Pugliese e Puglia Promozione. Grazie.